Ciao ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video e in questo video risponderò alle vostre domande Allora ragazzi mi sono arrivate un sacco di domande e insieme a noi c'è anche Wolfie e comunque ne sono arrivate tantissime e adesso incominciamo con la prima però chiaramente non riuscirò a rispondere a tutte quante però allora da chi ha ereditato gli occhi PS brava grazie mille allora gli occhi li ho ereditati sia da mia madre che da mio padre perché hanno tutti e due gli occhi azzurri Wolfie che puoi fare allora cosa si prova ad avere genitori di origine diverse americana e italiana allora devo dire che è bellissimo perché visto che Wolfie prendi il tuo sigino visto che mia madre è americana ho sempre la scusa di viaggiare andare in America ogni anno e mi piace troppo io la adoro in America e poi nella mia casa parlo due lingue diverse in inglese e in italiano e mi piace tantissimo va bene ragazzi adesso mi metto comoda ecco qui allora andiamo avanti allora qual è il tuo cibo preferito? ti adoro grazie mille allora il mio cibo preferito non è uno solo perché mi piace il sushi il cibo messicano anche la colazione americana con uova e pancetta però devo dire che il mio cibo preferito è la colazione americana con uova e pancetta allora vediamo quali sono i tuoi artisti musicali stranieri preferiti? love you grazie mille allora i miei artisti musicali preferiti stranieri sono innanzitutto David Bowie proprio in assoluto il mio idolo poi Nirvana anche Lou Reed i Rolling Stones Prince mi piacciono veramente tantissimo e si sono questi i miei preferiti che paese ti piacerebbe visitare? allora devo dire che io adorerei veramente per troppo visitare il giappone perché è veramente il mio posto preferito in assoluto e infatti tutta la mia stanza è tipo addobbata con tante cose giapponesi ho una zia giapponese e ho pure studiato il giapponese quindi devo dire che quello è il mio posto preferito e lo devo per forza andare a visitare almeno una volta sola nella vita come deve essere la tua amica ideale? allora devo dire proprio che la mia amica ideale innanzitutto non deve essere né invidiosa di me in generale e poi neanche competitiva perché se è invidiosa o competitiva cioè non ci sta amicizia ok allora qual è il tuo colore preferito? allora il mio colore preferito sicuramente è il turchese tutte le sfumature di turchese mi piace davvero troppo infatti la mia maglietta è di color turchese qual è il tuo gusto di gelato preferito? sei bellissima ti adoro grazie mille allora il mio gelato preferito il gusto è tutti i gusti alla frutta diciamo però soprattutto quello alla fragola e quelli al cioccolato diciamo che il mio preferito è pandistelle tipo come gusti e anche oreo mi piacciono tantissimo sei mai stata fidanzata? allora Wolfie è rivenuto tra noi e comunque sono stata fidanzata due volte l'anno scorso con due ragazzi della mia classe invece adesso sono fidanzata con un ragazzo che mi segue su youtube infatti lo saluto ciao va bene andiamo avanti con l'ultima domanda nel frattempo Wolfie sta ancora con noi a mangiare l'ossicino allora di dove sei e quanti anni hai? allora io ho 12 anni penso che molti di voi lo sappiate e abito a Napoli cioè sono di Napoli e visto che mia madre è americana è di Phoenix Arizona infatti sulla mia maglietta c'è scritta addirittura Phoenix Arizona sono anche americana vabbè ragazzi questo bimbo cattivone comunque mi dispiace tanto che non sono riuscita a rispondere a tutte le vostre domande però erano veramente tantissime però magari nel futuro farò un altro video ask che risponderà a tutte le vostre domande va bene ragazzi in questo video finalmente vi saluterò eravate veramente in tanti che mi avete chiesto di essere salutati e si va bene ragazzi incominciamo allora ciao ciao Daisy Unicorn ciao Gaia ciao Noemi ciao Casia ciao Sabrina ciao Giulia ciao Darine ciao Benedetta ciao Maria Pia ciao Sorrielli ciao Georgia ciao Terry ciao Matilde ciao Chiara ciao Daisy ciao Emanuela ciao Flavia ciao Attack and Titan Love ciao Grazia ciao ciao Marco ciao Miriam ciao Andrea ciao Martina ciao Letizia ciao Stella Kawai ciao Clizia ciao Tommaso ciao Italia Balsano ciao Asia e Mattia ciao Federica ciao Unicorn Lady ciao Dominique ciao La Stefi ciao Ginevra ciao Magic Alessia ciao Mariana Scano ciao Martina ciao Mariana ciao Ninfadora ciao Maria ciao Isa ciao Anna Lisa ciao Beatrice ciao Chiara ciao Asia ciao gli occhi di Sofia e infine ciao Ellie va bene ragazzi spero tanto che vi sia piaciuto questo video e se vi è piaciuto mettete un bel like e se volete iscrivetevi al mio canale ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi